bella a tutti ragazzi sotto virko bentornati su gameplay channel e su subsistence multiplayer finalmente oltre che il cazzaro dei videogiochi eccolo qua ci abbiamo anche black eccoci ma manca corsaro ma è stato appena brutalizzato nel suo letto esatto l'architetto l'architetto che ha costruito la casa che appunto vi ho fatto vedere nello scorso gameplay che supera ogni legge della fisica allora qua tra l'altro loro hanno messo un coniglio e una gallina infatti vedete nell'animal house che avevamo costruito l'altra volta abbiamo già due ovettini belli pronti e preghiamente hanno fatto l'upgrade per il free range quindi in questo modo gli animali vanno in giro e consumano diciamo un po meno quindi hai anche attivato i cacciatori giusto si fra tre giorni spawn fra tre giorni ce lo faranno a strisce ah io tra l'altro sto morendo di fame che è che ha buttato per terra una cassa una cassa si qualcuno ha gettato gettiamo cosa al vento ma ma qua sono tutte spente accendiamo accendi anche l'altra mirko ho già messo il cemifero mi faccio una bistecchina gallina vecchia ci sono cacciatori vedi i cacciatori ci sono ci sono già si 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 e mi hanno ucciso due ma dai di solito era tre giorni dopo tre giorni orsi cacciatori dietro tutte cose dietro l'esercito oh cavolo sono morto sono morto sono morto sono morto sono dove c'è la base a sinistra no 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 quella davanti proprio siamo già nei problemi bene contento sicuro ma dove c'è quella la base col balcone sì 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 ma io sono qua sto vedendo la base ma non li vedo i cacciatori non senti i rumori no no spari se gli ho sentiti prima gli spari lontananza gli ho sentiti e ora si sono si sono allontanati ma si sono fermati adesso non ti seguono sono sono qua vicino a te sono qua sono qua vicino a te sono io e non so che c'è un lupo che mi insegna mi è soddisfatto ah eccolo qua eccolo qua non ho armi occhio occhio no sono morto scappa scappa aspetta che prendo un paio di armi sì lupo livello qualof lo stendiamo vieni black black e ora ci ho avuto pure la fortuna di spawnare davanti prendi il fucile a pompa io vi aspetto qua sono dove c'è la base dove c'è il balcone prendi il fucile a pompa con dieci colpi con questo arrivando bisogna farli fuori forse ha trovato quelli che girano mirko a quelli lì sì è vero che ci sono anche quelli non è quelli che tengono tengono il campfire e non non aumentano di basta però attaccavano pure gli orsi luca si si perché si attaccano tra di loro si si adesso gli animali attaccano anche i cacciatori almeno quello ok io sono qua sotto vi vedo ci sei sotto già sono qua sono qua no i cacciatori non li ho ancora visti sono qua sotto la base sta arrivando ormai di bobi qua qua mirko sopra ok ok io tutta la roba nell'inventario lui ha detto a sinistra della base giusto sulla sinistra si proviamo aspetta sto arrivando cosa mai si è esatto aspettiamolo così ti tolto anche la tua roba ne vedo una in lontananza dove no io non un momento non non ho da un primo momento anch'io aspetta avvicinando non avvicinarti troppo uno spesso davanti e ora uno black te vai dalla sinistra e te snake dalla destra e noi due andiamo dal centro io e mirko ma vedi che sono più di uno black largati snake stai fermo un attimo prima di ma ok ce l'ho proprio qua davanti però in maglietta non ha corre corre ti corre addosso ti corre addosso occhio sparagli cacchio colo non ho più munizioni sono ferito forza macca madonna ma come si muovono aia oh la madonna l'hai fatto volare via chi è che vuole una benda chi è che vuole io 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 aspetta aperta aperta mi ho preso anche me qua mi ho preso anche me che mi ho preso nel oh aveva un sacco di roba però vero chi è che sta sanguinando io 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 sono senza benda non ho più ne avevo una sola ma ce n'erano altri cacciatori no sì 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 da queste parti sembra però aveva l'arco non aveva la pistola no aveva anche la pistola dopo quando ha finito ha usato l'arco strano che non erano infinite le munizioni di solito tieni due pomodori e vediamo se ti cura con i due pomodori tieni black così dovrebbe rallentare un po lo c'è questa aveva i gears degli ingranaggi ma si sono quelli nuovi ah infatti non li ho mai viste chissà l'altro beh è la prima volta che io e mi uccidiamo un cacciatore sì è vero è vero la primissima volta ma fatica e l'altro dove era più o meno beh da questa parte siamo sul campo sul suo campo andiamo a vedere qua dove c'è la base che metto della carne dentro per cucinare l'altro dove aspetta via davanti a me davanti a me qua arrivo dall'alto ma eccolo eccolo ok lo vedo 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 se non è snake sei snake no 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 dove sta correndo qua ah non lo so corre vero hai visto è alto è alto ah è là è là è lassù aspetta che guardiamo dove va aspetta aspetta dove cavolo sta andando sta seguendo il coniglio secondo me è andato qua in base dove c'è la base no si è fermato sull'albero grande occhio occhio è sull'albero sulla parte delle dove c'è la bosca c'è anche un lupo e c'è anche un orso magari se siamo fortunati lo attaccano loro stavi seguendo un coniglio occhio che io lo vedevo dietro l'albero lo vedete non lo vedo più stante non lo vedevo più eh secondo me è sceso no si si è probabile è ancora lì lo sai no? eh lo vedi sulla mappa eh se vedi il teschio è ancora lì allora è ancora lì si non c'è nessuno puoi andare tranquillamente black che fai da qua eh? eh occhio occhio lupo eccolo 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 stai seguendo il lupo ah vai no no io sono io sono ah c'è io sono c'ho orso lupo oh dio orso lupo tutti li ha pensavo fosse lui vai corri corri forest vediamo come finirà il cacciatore finto non mi prenderete ha finito di correre pensavo fosse il cacciatore veramente no ero io me lo ho messo tipo sotto per vedere se l'hai sceso ok c'è un lupo che sta correndo di là no metà di qua non ne vedo neanche uno no aspetta ti do il piccone come solito eh sento riguardo oddio porca miseria cacchio ho finito i colpi oh ma che cavolo di infatti eh sono quasi morto sto sanguinando occhio che c'è un altro lupo dietro eh Ale dov'è? la 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 oh no no la va via stai sanguinando? eh sì non so se riesco a sopravvivere sto anche morendo di fame morendo no solo acqua e nient'altro la carne è cruda eh sento l'orso 188 di fertilizzante beh io intanto prendo le cose al massimo si muoio le prendi tu si vai vai diretto a una base almeno oddio sento l'orso è sotto oh cacchio no sta salendo scappa 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 aia ouch mi ha fatto malissimo ok ho trovato un cacciatore ok sono qua due cacciatori eccoli qua si si col canfire però sono quelli suoi vediamo si si sono due sono due sono lì che stanno girovagando io rientro in base io qui c'è la carne qua di Misco la metto sul giro si si vabbè prendi tutto c'è l'orso in piedi? si si bravo allora si vedo l'orso e basta ecco io sono alla destra ecco calcola stop l'orso ecco andando ecco andando dritto di qua praticamente laggiù c'è il canfire secondo me di notte lo vediamo anche dalla finestra ah si adesso ti vedo che stai correndo verso di qua si si esatto è vero che non mi spari anche perchè la stamina mi sta per via vicino alla base sono la 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 sento sparare si sento sparare ma è lì 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 Mirko Mirko dove dove? no vedi la montagnola dietro l'orso si 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 la sotto siete allora si si ma ce ne sono altre eccolo eccolo si ma ce ne sono altri qua sotto ti vediamo correre e ci siamo anche coi abbiamo i cacciatori dietro anche davanti c'è un orso un lupo di livelli alti anche ma quello che corre sei tu o il cacciatore? no no questo sono io ora ok che cora zizzag sei te fermo si si io sono io sono salta si 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 ok ok non mi fido sparagli prima spara poi fai le domande vieni vieni qua sono i cacciatori vieni vieni si ma siamo disarmati dove sei? non ti vedo più sopra Mirko ah ok qua 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 dietro qua devo andare a recuperare e te avevi una pistola di Mirko che avevi recuperato il suo zaino eh l'ho messo su ah l'hai messo via si si ma ecco era ma addirittura già hanno il fucile a pompa eh te l'ho detto il cacciatore oh oh c'è un minerale eh no io non ce l'ho ce l'ho io ce l'ho io oh che c'è un lupo sotto ah guardalo lì che in fire eccoli lì i cacciatori dove? guardali laggiù eh il lag ah ma non è una base no è sempre un dov'è il minerale? no hanno incominciato a fare qualcosa qua davanti no perché li uccidiamo prima che la fanno ah eccolo qua il rame ce n'è anche un altro di qua poi si ma non riesco a prenderlo dov'è la base dei cacciatori guarda davanti a me occhio che si sta avvicinando il lupo eh vai in fretta vai 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 occhio non riesce a bene ah è di là la base ma vedo c'è tipo la base si ma ce n'è uno anche di qua campfire si si ce n'è uno anche di là uno anche dritto dove stai andando tu è proprio ah la vedo adesso la vedo si la vedo occhio al lupo porca no ma proprio ma non mi lasci un bacio porca corri minchia come si aggrappa sembro che voglia proprio vuole dimostrarti di affetto occhio che si sta avvicinando un coniglio di corsa vuol dire che si sono mossi ecco vedete ragazzuoli la base mostra la base Mirko Mirko mostra la base ma di qua dritto hanno fatto la base proprio là vedi la base si perché la intravedo occhio ah guardala lì che la stanno facendo eh si si la davano hanno tirato già su hanno fatto un paio di foundation ma vedi che rapidità se io vado tipo di qua vi vedi no guarda guarda qua c'è anche una cassa aspetta un po' prendiamo una cassa vedi come si distrae facilmente come i gatti li mostri il gomitolo si si è oh una cassa una cassa che chissà occhio qua se avevamo il coso per distruggergli la la bcu no però hanno fatto solo una parete una foundation e basta si non è poco però occhio oh cacchio sono qua oh cacchio 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 come cover è veloce dov'è dov'è l'abbiamo ucciso ah sta morendo ah è morto è morto è morto ma io però io mi sono avvalto chi è che vuole la benda vuole la benda io 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 toto 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 è qua è qua è qua grazie ma i vestiti non gli si possono prendere no ho provato ma non aveva vestiti aveva sempre un uovo non so dove l'ha trovato ah l'avrà fatto un secondo oh chi è che spara ah che spavento sembravano si si abbattiamolo a biett ah ok sembravano colpi ho detto che uovo che spavento ma si rompe sta cosa non lo so si vabbè ma guarda come gli va giù la vita piano piano a 600 di vita guarda quanto gli va giù siamo dei bastardi è andata giù è andata giù boom boom bitch andiamo via andiamo via subito io ho la fondessa però che rimane così la bcu volante è un po' eh si eh beh prima non si poteva neanche distruggere no qui si salta e si muove eh si no qua dire di no eh c'è un game fire là sotto dove? si si c'è un altro c'è un altro là qua davanti oh andiamo e ce ne andiamo e ce ne sono altri si si anche perché se no qua tra un po' moriamo anche di freddo io non ho colpi se muoio muoio eh allora passa avanti tu va si magari tipo se muoio si tre i colpi sei l'unico che ha colpi neanche no io non ho né pistola né arco né niente mi difendo a parolacce ma vedi che sono alla base si però troppi cacciatori eh sono belli vicini no ma sono anche vicini non è che siano spawnati distantissimi no no sono vicini proprio si è vendicato si è cacciato si sa posso anche morire posso anche morire felice comunque sopra nelle casse sopra ci sono le due due armi ho fatto già nove uova comunque le galline eh si si avvicinano si vendicano si 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 quello è il problema che quando cominciano ad attaccare tipo a me nella mia partita privata ancora prima delle patch varie hanno attaccavano anche di notte tipo così c'era del raid eh si perché fanno i raid di notte se li attacchia a parte anche lo fanno anche se non li attacchi ma poi se li attacchi in più si vendicano quindi giorni successivi verranno a farci il culo ma io non accenderò quindi non potranno esatto li facciamo morire di vecchiaia piuttosto piuttosto va bene ragazzi allora direi oggi gameplay decisamente più movimentato rispetto agli altri adesso inizia a diventare bella tosta la situazione quindi ovviamente ringrazio il cazzaro di videogiochi ringrazio Snake e Black il buon Corsaro adesso verrà brutalizzato da tutti noi a turno finché non rientrerà in partita quindi Corsaro si è avvisato vedi cosa ho in mano guarda Corsaro cosa ho in mano guarda un berri svegli un berri svegli eh eh si non sarà un berri svegli romantico esatto quindi ragazzi vi saluto come sempre vi ricordo un bel like condividete commentate andate a guardare anche i video del cazzaro dei videogiochi così per vedere anche il suo punto di vista e niente noi ci becchiamo alla prossima grazie a tutti ciao belli alla prossima ciao a tutti ciao a tutti